Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Dunque il Governo ha varato il decreto legge con le nuove restrizioni e le regole per Pasqua che si aggiungono al cambio di fascia dell'Italia, di alcune regioni dell'Italia, reso necessario dall'andamento della curva dei contagi. Un'Italia in zona rossa e arancione da cui sparisce il giallo con la Sardegna, unica regione in bianco. In un'intervista alla stampa il Ministro dell'Interno Luciano Alamorgese spiega che ci saranno dei controlli capillari perché il rispetto delle regole serve per tutelare la salute dei cittadini. Vediamo quali sono allora le novità e dunque le nuove regole. L'Italia a colori si tinge di rosso e scompare il giallo. La maggior parte delle regioni da lunedì diventano infatti aree a massimo rischio. Saranno in rosso fino al 28 marzo Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Lazio, Puglia che si aggiungono così a Campania e Molise. Ancora in corso verifiche sulla Basilicata che era in rosso. Tutte le altre saranno in arancione. Nella cartina spicca il bianco della Sardegna, isola dove in pratica tutte le attività sono riprese. Già con il decreto approvato ieri mattina era stato deciso che dal 15 marzo al 6 aprile nelle regioni gialle si sarebbero applicate in ogni caso le misure stabilite per quelle in zona arancione. E poi zona rossa che scatta automaticamente con 250 casi su 100.000 abitanti. Coprifuoco confermato dalle 22 alle 5 del mattino, proroga del divieto di spostamento tra regioni. Ma soprattutto lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile per le festività di Pasqua, quando si potrà fare visita solo una volta al giorno a parenti e amici al massimo in due persone, oltre ai minori di 14 anni. Regola che però non sarà valida nelle zone a maggior rischio in tutti gli altri giorni. Nelle zone rosse consentiti solo gli spostamenti necessari o per lavoro. Chiusi bar e ristoranti, aperti i negozi di prima necessità. Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche parrucchieri e centri estetici. Vietato anche andare nelle seconde case. In fascia arancione, in base al nuovo decreto, ci si potrà muovere una sola volta al giorno verso una sola abitazione, ma solo dentro il proprio comune. Bar e ristoranti serrati, concesso solo l'asporto, sia le seconde case, ma solo se non sono in fascia rossa. Per le attività sportive, se in zona arancione, restano aperte le aree attrezzate ai parchi pubblici. In quelle rosse si fa sport solo individualmente e vicino casa.